Il cormorano, questo grosso uccello scuro, muscoloso, potente. Pensate che la sua potenza soprattutto si trova nei muscoli pettorali perché gli permettono di volare ma anche di pescare, quindi andare sotto l'acqua e quindi nuotare. Ogni volta che vanno a caccia loro fanno centro, prendono un pesce. È un animale facilmente adattabile, infatti è presente in vari continenti come l'Europa, Asia, Africa. È un animale eccezionale con questo becco lungo, grosso, forte a uncino fatto proprio per pescare. Da me Agli è tutto la piuma del giorno.